Ciao ragazzi e ben ritrovati nel canale del Marchese del Cripto dove si parla solo pane al pane e vino al vino quest'oggi vediamo grafico di Bitcoin come al solito per il nostro by the rumors sell the news poi a fine video grafico di Cardano e di CRO che ormai saranno implementati costantemente nella mia rubrica perché so che a voi, che a molti di voi interessano tanto quindi poi andiamo a vedere anche questi grafici allo stesso tempo sai di cosa si tratta quando uso il termine REFAI? beh se non lo sai aspetta qui vediamo insieme di cosa sto parlando perché potrebbe essere interessante come prossimo trend oltre a questo poi andiamo a vedere anche delle analisi on-chain su Bitcoin che ragazzi vi assicuro non mi ci stanno facendo capire assolutamente nulla perché sono completamente contrastanti l'uno con l'altro allora vediamo un attimino col grafico di Bitcoin 24.870 dollari questo è il grafico giornaliero come vedete ragazzi qui il 16 febbraio c'è stato il top pari a 25.213 questo è stato ovviamente quindi un top temporaneo lo stesso che è avvenuto il 15 di agosto siamo stati naturalmente respinti come abbiamo toccato quindi abbiamo fatto una pizzicata e siamo stati respinti ora tutta questa zona la stiamo provando a superare da 1, 2, 3, 4 oggi è la quinta volta il problema che oggi sta capitando è quello che i mercati statunitensi sono fermi e quindi in questo momento le cripto sono lasciate a se stesse quindi bisognerà vedere un attimino quindi come andranno direttamente Bitcoin e le cripto nell'ultimo periodo abbiamo visto una certa decorrelazione con il mercato azionario quindi questo mi sta facendo capire ancora di meno e soprattutto ragazzi l'aspetto più importante poi lo andiamo a vedere dopo sono quelle metricon chain che non mi convincono che cosa potrebbe capitare adesso Bitcoin? allora ragazzi se io fossi in un periodo tranquillo, normale insomma senza FOMO, senza FAD, senza tutte queste notizie particolari potrebbe essere più sensato visto che siamo venuti da un periodo di pump insomma un certo ritracciamento sono altro nuovamente per testare questa zona per poi magari eventualmente prendere un altro po' di forza per poter ripartire ma vedete ragazzi qua che cosa è successo quindi più probabilisticamente che non significa certamente secondo me romperemo bullish anche questa volta quindi ragazzi io qui in questo momento non vi sto dicendo che sia contento che Bitcoin non scenda perché ci mancherebbe altro ma allo stesso tempo mi sembra semplicemente un po' strano ok? sto semplicemente analizzando il periodo quindi probabilmente è una rottura bullish in questo momento è l'ipotesi più plausibile poi adesso andiamo a parlare anche un attimino di ReFi prima cosa che cos'è questa ReFi? in pratica è come se fosse la cugina della DeFi noi conosciamo benissimo la DeFi, la finanza decentralizzata la ReFi è presente un ramo che si occupa mentre fa finanza decentralizzata si occupa anche della lotta ai cambiamenti climatici ci sono diversi progetti come ad esempio ClimaDAO è uno di questi come un altro progetto è questa ad esempio Regen che è una blockchain realizzata su Tendermint quindi su Cosmos nell'ecosistema di Cosmos che si occupa di fare del trading di crediti di carbonio questo ragazzi probabilmente sarà uno dei prossimi trend che vedremo già esistevano da un pochino di tempo ma non si rifilava nessuno da circa un anno e mezzo un paio d'anni in questo momento invece stanno andando sempre più in voga perché ti permettono oltre che naturalmente di dare una mano all'ambiente ti permettono anche naturalmente di guadagnare mentre si fanno quindi di fare un po' di soldi mentre si lotta ai cambiamenti climatici esistono anche nella finanza tradizionale questi progetti progetti similari è vero ma con la blockchain si ha una trasparenza nettamente superiore perché il tutto naturalmente registrato ed evidente sulla blockchain qualsiasi spostamento viene effettuato quindi molto interessante ora adesso non vi sto assolutamente dicendo di investire in questi progetti perché ci sono i loro token e così via ma io non ho analizzato assolutamente questo aspetto perlomeno non ho ancora perché non so se a voi fa piacere un approfondimento di questi progetti se sì scrivetemelo qua sotto nei commenti e se i commenti insomma sono a sufficienza sarò ben felice di farvi un video a riguardo per il resto insomma è semplicemente un pur parler perché come detto non ho approfondito la market cap di bitcoin supera un gigante per la terza volta consecutiva come Visa quindi in questo momento c'è più un market cap su bitcoin che su Visa alcune whale hanno spostato XRP e Polygon Matic sono stati fatti dei grandi trasferimenti per quanto riguarda XRP sono stati fatti verso gli exchange quindi solitamente per essere venduti quindi probabilmente il prezzo di XRP potrebbe magari eventualmente perdere un qualcosa a breve termine per quanto riguarda invece Polygon Matic qui ci sono stati dei spostamenti ma in realtà più che altro da wallet a wallet oppure da exchange quindi che non hanno assolutamente cambiato nulla non ci sono stati grossi movimenti verso gli exchange di Matic quindi questo consente ancora a Matic di avere estrema forza perlomeno per quanto riguarda dati onchain Helium Network migrerà verso Solana questa migrazione è prevista per il 27 marzo è una transizione che dura circa 24 ore allora che cosa dovete fare se siete investitori di HNT quindi se avete il token oppure mobile quindi insomma sulla blockchain di Helium allora in questo momento assolutamente nulla dovete eseguire semplicemente gli aggiornamenti ci sarà poi il passaggio in automatico sulla blockchain di Solana probabilmente dovete inserire il wallet dovete fare del claim adesso non lo so dovete comunque eseguire il progetto oppure se non volete sbattimenti di questo tipo potete usare un exchange centralizzato quindi spostarli sugli exchange ad esempio Bitget supporta il deposito di HNT presumo supporterà anche lo spostamento delle blockchain e dovrà essere fatto il tutto in maniera automatizzata salvo eventuali news che arriveranno direttamente da Bitget inoltre utilizzando il referral link qua sotto avete il 20% di sconto sulle fee e soprattutto ragazzi in questo momento su Bitget è possibile depositare e ritirare euro direttamente dal conto corrente bancario tramite bonifico SEPA quindi valida alternativa a Binance adesso veniamo a questi dati on chain che non mi ci stanno facendo capire nulla allora innanzitutto vediamo le grandi transazioni di Bitcoin in questo momento come vedete sono in leggera salita ma nulla di che quindi questo è sintomo che le balene gli istituzionali di Bitcoin non stanno facendo grandissime transazioni però quando queste transazioni aumentano assolutamente il prezzo di Bitcoin scende in maniera importante per quanto riguarda invece il volume di transazioni stanno in discesa in questo momento infatti qui se andiamo a fare uno zoom in infatti nell'ultimo periodo il prezzo di Bitcoin sale e questo fatto che sono così in discesa mi fa ben sperare per una rottura bullish riguardo al grafico che dicevamo prima e qui adesso ci fermiamo per quanto riguarda Bitcoin allo stesso tempo si andiamo a vedere però USDC in questo caso una stablecoin vediamo che i dati sono parecchio contrastanti questo perché perché solitamente quando ci sono grossi inflow in pratica quando grossi quantitativi di token di USDC vengono spostati dai wallet verso l'exchange è solitamente per acquistare crypto per essere convertiti in Bitcoin e qui ne abbiamo visti tanti soprattutto per quanto riguarda la data del 10 febbraio la data di San Valentino del 14 febbraio abbiamo avuto questi picchi importanti ora in questo caso possono essere dovuti a due aspetti per due motivazioni la prima è appunto quella di acquistare Bitcoin o crypto la seconda legata alla problematica riguardo Paxos e BUSD Binance USD penso tu sappia di cosa parlo se non lo sai riguardo il video della scorsa volta che ti lascio qua sopra quindi in modo tale che sai di cosa parliamo prima di proseguire questo e quindi può essere stato fatto perché loro vogliono perché alcune whale o alcune balene vogliono vendere USDC e spostarsi in magari in valuta fiat piuttosto che eventualmente convertirli in Bitcoin e quindi questo può essere che abbia contribuito anche alla spinta di Bitcoin benché come detto i volumi degli istituzionali sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli di qualche tempo fa e quindi probabilmente questi spostamenti e movimenti di Bitcoin questi pump di Bitcoin che ci sono stati ribadisco nuovamente non sono dovuti a delle grosse transazioni da parte di istituzionali anche perché se noi comunque si andiamo a vedere dove sta ecco qua per quanto riguarda la market cap in questo caso di USDC che da dove ci indica ci indica in pratica quanti USDC ci sono quanto pesa la market cap in USDC rispetto alla market cap delle criptovalute sicuramente che cosa capita che quando questo dato scende le criptovalute salgono magari in questo caso Bitcoin perché appunto molti magari convertono USDC in Bitcoin cosa che in effetti è avvenuta gennaio febbraio e così via in quest'ultimo periodo invece abbiamo visto come il volume la market cap di USDC sia salita infatti vediamo che ha recuperato un qualcosina ma allo stesso tempo è salito anche Bitcoin e quindi ragazzi questo dato non mi ci sta facendo capire nulla quindi probabilmente perché molti magari hanno spostato BUSD in USDC ad esempio e in Tether magari hanno convertito in altre cripto e quindi abbiamo visto questo rialzo allo stesso tempo mi fa pensare che quegli USDC inviati sugli exchange potrebbero non essere stati convertiti in Bitcoin se no allo stesso tempo la market cap sarebbe scesa quindi abbiamo questi dati contrastanti che non riesco ben in questo momento a elaborare e quindi se siete dei trader come detto ragazzi statevi fermi con le mani consiglio proprio in questo momento insomma ci sarà tempo per poterlo fare se siete degli holder oppure se fate dei pack è quello continuare a fare insomma come meglio credete problemi non ne vedo sul lungo termine in questo caso questo invece ragazzi è il grafico di Cardano come promesso in questo momento ci troviamo a 40 centesimi di dollaro sta cercando di rompere queste resistenze questa zona dei 42 centesimi di dollaro all'incirca 42-43 perché è tutta una fascia di resistenza molto molto ampia questa quindi qui ha bisogno di forza per poterla rompere altrimenti c'è il rischio che ci sia una nuova inversione e quindi Cardano possa continuare la discesa purtroppo in questo momento i volumi sono in diminuzione più che essere in aumento e questo un pochino mi dispiace ma ad ogni modo Cardano ha comunque si ha acquistato forza in generale e in questo momento quindi magari probabilmente si attenderà un catalizzatore che potrebbe essere eventuale rottura bullish di Bitcoin per poter vedere una rottura bullish allo stesso modo da parte di Cardano anche perché per quanto riguarda i volumi basta poco per vedere un aumento o una diminuzione quindi Cardano mi sta piacendo molto benché naturalmente non sta performando come Bitcoin non è forte come Bitcoin adesso andiamo a vedere anche CRO CRO in questo momento si trova a 0.08 e come vediamo ragazzi anche in questo caso qui siamo più scarichi rispetto a Cardano più scarichi rispetto a Bitcoin la media mobile a 200 periodi continua a scendere e in pratica siamo in questa fase che dovremmo rompere questa resistenza per poi poter vedere il prezzo arrivare fino a toccare i 10 centesimi perché quest'altra è un'altra zona di resistenza però c'è comunque sia un però in questo momento CRO oltre ad essere molto scarico il problema è che si sta andando a incanalare in questa in questo pattern in pratica e solamente questo pattern è un pattern bearish che viene rotto al ribasso quindi potrebbe essere diciamo un'ottima crypto da tradare perché questa potrebbe essere tutta una zona di trading con i vari stop loss al di sotto o al di sopra insomma se andate short o long di questo pattern che cosa mi aspetto alla parte di CRO beh naturalmente oltre a seguire l'andamento di bitcoin qualora dovesse rompere bearish come probabilmente accadrà viste le probabilità che questo pattern venga rotto bearish che non significa che verrà rotto bearish semplicemente a livello probabilistico potrebbe fare magari una cosa del genere quello avvenesse rotto e poi eventualmente risuperarlo ok quindi qua potrebbe naturalmente prendere forza il pattern può venire rotto bearish ma poi come è capitato in diverse occasioni su diverse crypto anche su bitcoin ha avuto la stessa cosa poi ha avuto un impulso per risuperare questa parte e quindi tornare bullish quindi se credete in CRO ci sono delle possibilità di accumulo come ad esempio al tocco di questa trend line piuttosto che quando ci fosse questa rottura bearish questa zona piuttosto che se questo impulso fosse ancora più marcato c'è ancora tutta questa zona per quanto riguarda il prezzo è tornato in pratica a due anni e mezzo fa e quindi potrebbe essere un ottimo prezzo per poter valutare un ingresso su CRO naturalmente qualora crediate in CRO naturalmente qualora si speri non avvenga nulla alla piattaforma questo naturalmente ragazzi nessuno lo sa bene ragazzi con un bel ciao vi saluto e ci si vede al prossimo video del Marchese del Crypto un bel like iscriviti poi se non vuoi perderti tutte queste news al prossimo del Marchese del Crypto ciao buona giornata buona giornata buona giornata